Si aprirà il 26 gennaio a Sciacca un laboratorio artistico per selezionare i partecipanti locali di una performance in programma il venerdì grasso il 9 febbraio 2024 tra le vie del centro storico di Sciacca, l'iniziativa di una compagnia artistica francese capeggiata dal sacenze Daniele Marranca. Quello che in programma è uno spettacolo itinerante con musiche e l'esaltazione del Pepe Nappa. Un approccio alle metodologie e pratiche artistiche che è un connubio con l'approccio a metodologie di ricerca. L'iniziativa diciamo in senso generale si chiama Arrivà o Pepe Nappa o portarono i nanni e viene inquadrato in un progetto più ampio che si chiama Carnovale. Quindi abbiamo due figure, la figura dei nanni che è una figura più ancestrale e invece Pepe Nappa che deriva dalla commedia dell'arte e che quindi fa parte più di una cultura moderna. I nanni erano una figura che nel Carnevale di Sciacca era presente, come in altri Carnevali, in altre mascherate, e che poi con l'avvento di Pepe Nappa negli anni 50 del secolo scorso è stato un po' messo da parte. Quindi è come se dicessimo riprendiamo le tradizioni, andiamo a cercare cosa c'era a Sciacca, quale simbologia, quale storia potremmo andare a utilizzare per rinvigorire l'immaginario e la voglia di fare feste e di creare. Prendiamo i nanni, li prendiamo dal passato, nel loro percorso per arrivare al presente si prendono pure Pepe Nappa, che è la figura più recente, e arriviamo ad oggi. Quindi facciamo uno spettacolo dedicato a loro. Una specie di viaggio nel tempo. Sì, noi sappiamo che la società odierna, da tempo ormai, ha un percorso di valorizzazione delle feste tradizionali e di disgregazione dei momenti di comunità. Perché la festa è soprattutto un momento in cui la comunità si rimette in discussione, si ricrea, eccetera. Quindi quello che vive Sciacca oggi è quello che si vive in generale un po' ovunque nel mondo e che in paesi come la Francia si è vissuto molto già prima. Perché a partire dalla rivoluzione francese c'è stato un attacco a tutte le tradizioni. Quindi in Francia, come in altri paesi, hanno motorato delle misure. E' una politica che, diversamente da quella che c'è in Italia, è molto più serrata sulle politiche culturali. Perché la cultura serve a compensare quello che la società di per sé non riesce più a fare da sola. Ovvero incontrarsi, fare comunità e fare progetti insieme. Però è un momento di crisi generale. Quindi il progetto sul carnavale pone la problematica. Questa problematica lo fa come? Andando a riprendere quello che è il passato. Perché in momenti di difficoltà bisogna comunque un po' tornare in teo. Perché i modelli attuali non funzionano più. Oltre a Daniele Marranca fanno parte del progetto anche il musicista Giuseppe Cusmano, la coreografa Erné Blanc ed il ballerino Antoni Roquet. Lo spettacolo itinerante coinvolge un'equipe di amatori e dei professionisti. Sono delle formule che vengono ormai da tempo utilizzate per la creazione di spettacoli che coinvolgono il pubblico, del quale anche partecipanti allo spettacolo faranno parte. Nel senso che c'è una formula in cui amatori e professionisti fanno insieme qualcosa. Organizzeremo un laboratorio a partire dal 26 gennaio, aperto a tutti, a ragazzi e ragazze a partire da 14 anni. e lavoreremo insieme a loro per produrre questo spettacolo itinerante. Sarà uno spettacolo che coinvolgerà amatori e professionisti. La compagnia con la quale lavoriamo è francese e il progetto nasce in un'ottica internazionale, sicuramente europea, tra Italia, Belgio, Francia, paesi con cui già abbiamo dei contatti prossimi. Il progetto sarà patrocinato dal comune di Sciacca.